Abbassi la mascherina e questo tamponcino lo metti al lato della bocca senza morderlo, va bene? Tanta saliva, tanta tanta tanta... Prima seduta dei tamponi salivari nella scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella. Ci troviamo in Valdichiana, questa è una scuola sentinella per testare la presenza del Covid tra gli studenti. Ha la stessa valenza del molecolare, questo è il valore aggiunto, è poco invasivo, ma ha la stessa valenza del molecolare, è un test salivare molecolare, cioè che viene processato in laboratorio come se fosse un molecolare, quindi è attendibile alla stessa maniera. Circa 300 gli studenti che hanno effettuato il test, successivamente saranno le famiglie ad effettuarlo al proprio domicilio. La sorveglianza continuerà per questo periodo fino a che durerà l'emergenza e sarà gestita in toto dalla scuola con la collaborazione dei genitori. Quindi ai bambini e ai ragazzi verrà data la provetta il giorno precedente. I ragazzi a casa la mattina a digiuno faranno il test con questo diciamo ciupa ciup per intendersi e lo porteranno poi a scuola al mattino, lo riconsegnano all'insegnante e poi ci sarà il corriere della ASL che provvederà al ritiro per portarle al laboratorio. Quindi in tutta sicurezza e in tutta tranquillità senza nessun trauma anche per i bambini più piccoli. I test saranno ripetuti ogni due settimane. Di sicuro è molto meglio di quello lì che va per il naso. Comunque è un'iniziativa bella questa. Secondo me serve a molto anche perché almeno non si sta a fare sempre gli altri tramponi che sinceramente a me proprio danno noia. No, cioè meglio di quell'altro è normale. Per me è una cosa molto giusta perché soprattutto siamo anche parecchio vigilati su questa cosa. sapeva un po' di acetone però dai almeno non stiamo sempre a farli ogni 15 giorni anche quello lì sul naso eccetera. Possiamo essere vigilati anche così.